E' stata una mattinata intensa quella che la dirigenza Biancoverde ha trascorso tra la sede di Piazza Libertà e lo studio d'analisi del presidente Walter Taccone. Diversi gli agenti che hanno fatto capolino in città per intavolare o concludere trattative sancite da tempo con una stretta di mano, come nel caso dell'esterno Asma. Il vero incontro di giornata però è stato quello con l'agente di Stefan Bidaoui, il marocchino di Passaporto Belga che due anni fa a Crotone fece faville con Drago in panchina giocando da esterno d'attacco. Interessa l'Avellino che ha già raggiunto un'intesa di massima, malgrado ciò sulle sue condizioni fisiche si nutrono diversi dubbi. Il calciatore infatti nell'ultimo anno di attività latina ha giocato pochissimo e attualmente è finito nella lista degli svincolati. Comprensibile pertanto la momentanea frenata in attesa che qualche visita medica sciolga qualsiasi riserva. L'altro nome caldo per coprire i buchi sulle corsie esterne è quello di Mohamed Fares, 96 del Verona. Si tratta di un algerino sinistro puro che lo scorso anno ha timbrato per 11 volte il cartellino delle presenze in Serie A. De Vitolo aveva già inseguito in vano l'estate di un anno fa e adesso è tornato alla carica, approfittando del dialogo aperto da tempo con i Veneti per il difensore Alejandro González, centrale di difesa Uruguaggio, classe 88 ex Ternana che dovrebbe prendere il posto di Angelo Rea, calciatore al quale non sarà facile far fare la valigia senza metterci dentro una sostanziosa buona uscita. In alternativa la pista più battuta è quella con l'Atalanta per Alex Redolfi. Dal club oro obbico, oltre ad Asma, sbarcherà in Irpinia pure Boris Radunovic, portiere classe 96 della nazionale Under 21 Serba. Ad Asma sulla corsia sinistra, nel caso in cui dovesse davvero partire Visconti, ma sano sorgento, diverse difficoltà, bisognerà aggiungere un altro esterno. Per adesso il nome più gettonato è quello di Mattia Aramo, di proprietà del Torino, che in cadetteria ha già avuto esperienze con Trapani e Livorno. In Mediani, infine, non è detto che l'attuale organigramma, composto da Rini, D'Angelo, Paghere o Meongare, est inalterato. Mimmo Toscano, fin dal suo primo approccio con De Vito e Taccone, ha sempre richiesto un elemento in grado di poter dettare i tempi della manovra, esprimendo una certa qualità. Per esaudire questa richiesta, l'Avelino non ha ancora deciso se lanciarsi su un Under di belle speranze, chiaramente dal costo accessibile, o direttamente su un Over collaudato. La scelta in realtà è vincolata al destino di Angelo D'Angelo. Dovesse partire, infatti, De Vito lo rimpiazzerebbe con un parietà. Diversamente busserà alla porta di qualche club di Serie A per il prestito di un talento in erba.